un sarago un saraghetto come potete vedere quasi pesci diversi si prendono con il pane saraghiocchiate, lecce, salpe, cefali e gonzelle, sedieche, il famoso pesce pappagallo e qualche altro pesce che non lo riconosco perché pesci esotici non li conosco tanto e qui siamo nell'oceano c'è tanti idri diversi di pesce a volte non avevo chi mi ha potuto filmare purtroppo non ho documentazione ma va bene così io mi sono divertito guadagnare a volte Grazie a tutti.